Su internet è pieno di video che spiegano come vincere sicuramente alla roulette col metodo del raddoppio. Come funziona? Per prima cosa dobbiamo scegliere una cifra da cui partire, ad esempio 5 euro, che poi dobbiamo puntare su un colore, ad esempio il nero. Se la pallina finisce sul numero nero, e questa ha una probabilità di capitare appena più bassa del 50%, il banco ci dà indietro il doppio di quello che abbiamo appena puntato, quindi 10 euro. E noi ci ritroviamo più ricchi di 5 euro, visto che 5 li avevamo appena dati per giocare. E se ci va male e la pallina non finisce sul nero, se ci fermiamo perdiamo 5 euro. E infatti non ci fermiamo, anzi raddoppiamo. Visto che prima ne avevamo scommessi 5, ora ne puntiamo 10 sul nero, o sul rosso, tanto non cambia niente. Così, se questa volta esce il nero, incassiamo 20 euro, che è il doppio di 10. E siccome fino a questo punto ne abbiamo spesi 10 più 5 di prima, che in totale fa 15, siamo comunque in positivo di 5 euro. E se il nostro nero non uscisse neanche al secondo giro? Nessun problema, basta scommettere il doppio dell'ultima puntata, cioè 20 euro. Se vinciamo ne incassiamo 40, togliendo i 20 appena giocati e 15 persi prima, siamo comunque in positivo di 5 euro. E se il nostro nero non uscisse neanche al terzo giro? Nessun problema, basta scommetterne 40 e poi se siamo ancora sfortunati 80, 160 e così via. Prima o poi il nero uscirà e quando accadrà, dopo un certo numero di raddoppi, ci rifaremo di tutti i soldi persi e in più guadagneremo i soliti 5 euro. E a forza di 5 euro potremmo diventare lì. Certo, magari bisogna portarsi dietro un bel po' di denaro, ma a parte questo, sembra un metodo infallibile per farsi i soldi. Chi lo prova dice che funziona. O no? No. 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 Perché no? Perché i tavoli da roulette hanno dei massimi. Da un tavolo al quale sono ammesse puntate da 5 euro, la puntata massima potrebbe essere, ad esempio, di 2.000 euro. Cioè, più di 2.000 euro su quel tavolo non li possiamo scommettere. Peccato che partendo da 5 euro, già non lo raddoppio dovremmo scommettere 2.560 euro. Questo vuol dire che a un tavolo come questo, dopo 9 puntate sfortunate consecutive, non potremmo più raddoppiare. Neanche se avessimo i soldi per farlo. Certo, la probabilità di perdere 9 volte di fila è piuttosto bassa, circa 1 su 400. Ma se giochiamo tanto, di sicuro ci capiterà. Riassumendo, in media ogni 400 giocate, 399 volte vinciamo 5 euro. Mentre una volta perdiamo 5, più 10, più 20, più 40, più 80, più 160, più 320, più 640, più 1.280, che fa 2.555 euro. In media incassiamo 1.995 euro e ne spendiamo 2.555, quindi siamo sotto di 560 euro. Il metodo del raddoppio quindi non è altro che un gioco all'incontrario, in cui quasi sempre vinciamo poco. Molto raramente perdiamo tanto e complessivamente nel lungo periodo perdiamo. Alla lunga, quindi, qualcuno vince sicuramente all'Avolet col metodo del raddoppio. Ma è il banco. Nooo!